E' stata una stagione difficile perché tanti alti e bassi, però la squadra era forte, è forte, potevamo fare sicuramente molto di più. L'andata abbiamo giocato bene, però non siamo riusciti a portare a casa 5 punti o comunque gli abbiamo lasciato prendere un punto e qui dovevamo giocare di più, invece abbiamo aspettato troppo per giocare. Questo era malico per le due semifinali. Adesso ricarichiamo le pile per questo venerdì? Adesso per forza, l'accesso all'Enica è importantissimo per noi, quindi adesso come adesso per me è difficile dire ricarichiamo le pile e partiamo. Abbiamo un po' di tempo e vediamo di ritrovarci nel modo giusto perché comunque è una partita, una finale anche quella, è una partita importantissima. Tornando alla partita di oggi, comunque è mischia rispetto all'altra volta, non l'avete subito però comunque ci sono state delle difficoltà, è mischia chiusa. Loro sfruttano molto la capacità di farci girare, questo un po' bravura loro, un po' stupidità nostra, non siamo riusciti a sistemare questa cosa. È chiaro che è al limite del regolamento perché si può far girare ma non staccarsi completamente, però noi dovevamo trovare una soluzione e tante volte c'è stata difficile anche questa cosa. Quindi anche questo è una mentalità che ci è mancata un po' perché dobbiamo aggredire molto di più questa partita.